Salsicce straordinarie Cos'hai mangiato a pranzo, Tomà? Un gallo al vino? Dai, prova! Alice, la regina, è un regalo per te. Buon compleanno. Grazie, Octave. La regina, la regina, è un regalo per te. Margherite, Hortensie, venite, venite! Comprate i fiori della speranza, signore e signori, i fiori della speranza!